Bella Raga è il primo video da quando c'è stata istituita la zona rossa per tutta l'Italia quindi avendo i miei genitori a casa e avendo anche molte cose da fare e per occupare il tempo ho davvero pochissimo tempo appunto per reccare video, reccare pezzi anche se non diversi pronti, comunque sono qui per fare questo video veloce in cui parlerò della terza stagione di Elite è un blasting day questo, è la terza stagione di Elite che ho poi non finito, vabbè però c'è anche un blasting day perché Elite è una merdata, una serie mediocre del cazzo in questa terza stagione ci sono penso tutti i cliché possibili, immaginabili di una serie Team o comunque in generale delle serie un finale molto banale, alcune scene, in generale è scritta male la serie ma qui certe scene sono proprio fatte male porca troia quindi Elite che cazzo è, però bisogna dire che ci sono un paio di scene, mi vergogno a dirlo ma alcune scene mi ha gasato in questa stagione ed è leggermente sopra le altre, se le altre erano da 4 e mezzo questa è da 5 quindi sì, comunque non stiamo parlando di livelli esagerati e così, spero che non facciano la quarta stagione perché secondo me il finale per quanto possa essere banale, mediocre eccetera ha chiuso bene il ciclo, chiudiamo qui, se fanno una quarta stagione sarà sicuramente sotto il 4 perché non sanno più cosa inventarsi, spero di no, uno perché non voglio vederla e due perché, però potrebbe ricavarci un bel Blasting Debo, vedremo comunque è finita e approfitto questo video per dire che ovviamente i video saranno un po' di meno cioè ne ho già alcuni pronti che avevo recato ancora prima della zona rossa che ci fosse questa zona rossa per tutta l'Italia e appena ho dei momenti liberi li reccherò, non so quanti ci saranno comunque, velocemente, seguitemi su Instagram Titan Official no, Titan-Official99 o era Titan-Official-999 boh comunque provate entrambi perché lì ci sono degli aggiornamenti sul tape che è pronto questi giorni farò uscire la tracklist e poi più avanti farò uscire il tape, sarà in Freedom of Odd e ho uscito inoltre Sessismo su Spotify e ovviamente era già uscita sul Titan-Official Music il mio canale qui faccio uscire i video dei pezzi alcuni e ho già, oltre al tape, di che sarà composto 10 pezzi tra questo, per far vedere appunto poi anche vi avviso che ho già tre pezzi pronti altri tre pezzi pronti che uno è un esercizio di stile già spoiler poi ci sono altri due pezzi molto fighi secondo me che ho scritto recentemente e inoltre uscirà la mia prima collaborazione con un fratello in cui faremo un mini freestyle sul appunto coronavirus e io ho già pronto sto aspettando la sua strofa io devo correggere la mia però l'ho già scritta quindi boh vedremo stiamo decidendo il beat e beh questo video doveva essere il Blasting Day di Elite e qui però ho anche detto molte cose quindi il titolo è un Blasting Day effettivamente però lo chiamerò in modo diverso così nel titolo potrete vedere cioè potete sapere anche che parlerò di queste cose quindi potreste essere attirati di acidoltre fanculo e fan di nitro e di mostro che mi hanno blastato sotto i video io faccio visual voi vi rodete il fegato quindi fuck fuck